Ecco qua il vostro tè. A Freddy. Guarda Freddy, tutto negativo. Ah, brava signora Ida. Sono proprio contenta. Mi avevano trovato un po' di zucchero nel sangue. Cosa vuoi, quando sei vecchieré? E va bene, vecchieré. Eh, mica sono giovane, sai. Ma sono contenta, perché i giovani oggi non sono mai contenti. Vogliono tutto e lo vogliono in fretta. Ma chi è il padre della fretta? Chi genera la fretta? Il demone. Sì, il demone. La rovina dei giovani è cominciata con... Con i capelloni. I capelloni. La minigonna. La minigonna. Il grammofono. Il grammofono no. No, un poco pure il grammofono. Sì, ma con tutte queste cose. E si è arrivati che si fa l'amore in mente alla storia. Ma fai l'amore non è una cosa brutta. Il problema è che non si fa con la giusta moderazione. Anch'io, anche Caetano, facciamo l'amore. Solo con misura. Sappiamo, cioè, che c'è un limite. Sì, ma dandosi un limite, sì. Ma questi giovani sono in grado di darsi questo limite? Beh, io penso di sì. Io non ci credo. Ma io ho fiducia nei giorni, signorina.